Diretto da Kevin Reynolds Ti ho detto che avevo dato la mia parola a Napoleone! Lui mi ha mentito! Lo so, Edmond. Che delitto ho commesso! Jim Caviezel Guy Pearce Richard Harris Mi insegnerò tutto quello che so su quest'isola Per il ciclo Once Upon a Time Che cosa vi comprevedi? La vendetta Monte Cristo Domenica alle 21 con Iris